Ciao a tutti amici nero-azzurri, buongiorno, bentornati sul canale, bentornati su Filippo Tramontana TV, buona colazione se state vedendo questo video alla mattina presto. Allora ragazzi, io intanto vi ricordo che oggi è mercoledì, domani sera mi troverete su 7 gol top calcio 24 dalle 20.30 in poi per la trasmissione, vi ricordo venerdì mattina invece su questo canale, sul mio canale YouTube e sul mio profilo ufficiale Facebook ritorna dopo una settimana di pausa il Filippo Tramontana Show, quindi mi raccomando collegatevi su YouTube alle 11.30 venerdì mattina, poi troverete ovviamente la puntata in replica sempre sul canale YouTube postata dopo la diretta per chi non riuscisse a vedere la diretta alle 11.30. Detto questo, allora catapultiamoci un po' sul recap di quello che è successo ieri con a Cerbi, cerchiamo di capire un pochino meglio quello che è successo nel CDA dell'Inter con notizie positive che sono arrivate da Zang che tutti davano per desaparecido eppure ieri ha condotto il CDA mettendo altra liquidità nel bilancio dell'Inter che è migliorato e ancora una volta ha fatto registrare un aumento dei ricavi molto significativo e un più sull'entrata del più 22% di 22 milioni di euro, quindi insomma allora io non ne capisco nulla, nulla di bilanci, di finanza, quindi non mi ci addentro molto, ma diciamo che da come sono state dipinte, da come è stata dipinta la situazione dell'Inter negli ultimi dieci giorni, casualmente dalla fine del campionato all'inizio della pausa della nazionale, insomma diciamo che le notizie che sono arrivate dal CDA di ieri sono molto molto incoraggianti. Detto questo, il discorso con Oktri, tra Zang e Oktri è ancora aperto, vedremo un po' quello che succederà, ieri è intervenuto ancora una volta Bellinazzo a fare chiarezza sul discorso Zang e bilancio Inter e comunque al di là del fare la fotografia di quello che in questo momento è il discorso Inter sui bilanci dove Bellinazzo dice che c'è un continuo progresso, ma d'altronde questo in teoria lo avremmo dovuto sapere tutti, il progresso c'è, poi se uno pretende di vedere un bilancio positivo deve aspettare ancora qualche tempo, però se passati da un rosso di qualche anno fa di meno 250-300 milioni, siamo passati fino al meno 80 dell'ultimo bilancio, si sta viaggiando verso ancora una volta il dimezzare del debito, del debito, del rosso di bilancio. Il programma è di arrivare alla pari di bilancio ancora fra due anni, quindi si sta migliorando ancora una volta questo tipo di discorso, poi sul discorso Oktri-Zang lo abbiamo già detto, vediamo a maggio quello che succede, se Zang non refinanzia il prestito o non paga il debito, l'Inter finisce nelle mani di Oktri e poi lì, voglio dire, gestirà Oktri l'Inter come la sta gestendo adesso Zang, non c'è nient'altro da dire, dobbiamo solo aspettare di capire a maggio se la proprietà dell'Inter rimarrà in mano a Steven Zang e a Suning oppure se passerà di mano a Oktri. Ok, e poi quello vediamo tra due mesi o comunque prima, nel senso che se Zang poi rifinanzia il debito e trova l'accordo con Oktri, lo vediamo ancora prima. Discorso a Cerbi, che abbiamo quindi sviscerato molto bene, a Cerbi è stato assolto, quindi non ha commesso il fatto, non ci sono prove evidenti, abbiamo letto la motivazione del giudice sportivo ieri, abbiamo fatto chiarezza, è inutile stare qua a ripetere per l'ennesima volta perché si è fatto cosa, l'ho spiegato in mille salse, voi mi avete ascoltato in più di un video, quindi vi sarete anche un po' rotti le scatole, ci siamo rotti le scatole sia io che voi a parlare di questo argomento, a spiegare questo argomento e a sentirsi parlare di questo argomento che direi ancora basta, abbiamo la sentenza del giudice sportivo, non può fare ricorso al Napoli, finisce qua, chiudiamola qua e basta, poi chi non è d'accordo, ripeto ancora una volta, vada a lamentarsi con la giustizia sportiva, con il giudice sportivo, con la legge e insomma se non va bene, non va bene per loro, però purtroppo la legge è stata, purtroppo per fortuna la legge ha deciso così. Allora ragazzi, andiamo un po' però, abbiamo parlato sommariamente del CDA, di Zang, di bilanci, ve l'ho detto, io so già che se io faccio un video di 10 minuti, 12 minuti, forse anche un quarto d'ora, con un esperto di bilanci che spiega il bilancio dell'Inter, so già che a livello giornalistico sarebbe un ottimo esercizio e sicuramente un ottimo servizio. I problemi poi sono due, uno, che la gente, soprattutto molti di voi che mi scrivono addirittura che io parlo troppo, io parlo in 10 minuti, 12 minuti di video, cosa devo fare? Parlo, cioè figurati se viene a parlare un esperto di bilanci per 15 minuti sui bilanci, immagino il margine di sopportazione quale possa essere e in più è difficile anche da capire come argomento, quindi limitiamoci a dire che il bilancio dell'Inter ancora una volta ha fatto segnare un progresso e una diminuzione del rosso, ok? Poi vediamo nel prossimo trimestre quello che succede. Diminuzione del rosso per i ricavi dello stadio, degli sponsor, delle competizioni e delle cessioni fatte l'anno scorso, Onana su tutti. Ok, andiamo a vedere invece quello che finalmente cominciamo a parlare anche un po' di calcio giocato, ragazzi, perché se no veramente diventa difficile tra Cervici, DIA, Zang, tutte queste cose qua, poi la pausa per le nazionali, di calcio non si riesce a parlare. Allora, Inter Empoli, Inter Empoli al ritorno, il Milan al ritorno dalla pausa per le nazionali, il Milan giocherà sabato a Firenze contro la Fiorentina. Ormai parlo del Milan, della Juventus mi riesce un pochino più difficile perché a 17 punti parlo del Milan secondo in classifica a 14. Milan che va a Firenze senza lo squalificato Teo Hernandez in una partita comunque complicata perché Firenze è una trasferta insidiosa, molto difficile, con il Milan che ha comunque una classifica secondo posto molto, molto serena in vista della qualificazione in Champions League con un vantaggio siderale sulla sesta in classifica dando per scontato che l'Italia quest'anno avrà 5 squadre, le prime 5 squadre del campionato nella prossima Champions League. Quindi il Milan ovviamente ha come primo obiettivo l'Europa League dove giocherà nei quarti contro la Roma il doppio confronto per vedere chi passerà in semifinale e chiaramente anche Pioli farà le sue scelte di turnover in base a quello che sarà l'impegno principale del Milan che è quello con la Roma in Europa League nei quarti di finale. Ultimo vero traguardo che è rimasto al Milan e grande possibilità di vincere un troffero internazionale. Quindi se sommiamo tutte queste cose il Milan a Firenze ovviamente va per fare bottino pieno ma comunque con dei pensieri. Quindi il turnover di Pioli e la squalifica e quindi l'assenza di un giocatore fondamentale che ha fatto le fortune del Milan in questi anni insieme a Leao che è Teo Hernandez. Quindi Milan giocherà sabato, l'Inter giocherà invece lunedì sera, la domenica è Pasqua quindi non giocherà nessuno, il campionato verrà spezzettato tra sabato e lunedì. Lunedì sera l'Inter scenderà in campo contro l'Empoli a San Siro sapendo già il risultato del Milan a Firenze. Se il Milan non dovesse fare bottino pieno a Firenze per l'Inter si spalancherebbe un portone per andare a più 16 o eventualmente più 17 a 8 partite dalla fine. Quindi praticamente ipotecando lo scudetto perché stare a più 17 o a più 16 a 8 giornate alla fine con 24 punti disponibili diciamo che. Quindi è un weekend particolare senza la domenica. Ovviamente c'è da dire che nella formazione Inzaghi che fino a ieri non sapeva se poteva contare su un centrale di difesa potrà contare su Francesco Acerbi. Quindi Francesco Acerbi nonostante l'infortunio di De Vrij sarà il centrale di difesa con Pavard a destra, bastone a sinistra, a destra il solito ballottaggio tra Dumfries e Darmian credo con Darmian favorito, a sinistra Di Marco in mezzo Barella reduce da un gran gol contro l'Equador con la nazionale italiana. Cialanoglu che ieri sera ha segnato con la Turchia il gol su calcio di rigore, ha giocato 87 minuti, ha riposato invece Pavard con la Francia mentre invece ci sarà Mkhitaryan che è rimasto invece ad appiano ad allenarsi quindi dovrebbe essere il più fresco di tutti. Davanti sicuramente Turam che ha giocato poco con la Francia e Lautaro che invece bisognerà capire le condizioni di Lautaro che comunque arriva dalle amichevoli con l'Argentina e anche Di Sanchez che ha giocato col Cile quindi insomma diciamo che bisognerà capire un po' quello. Empoli che non sta attraversando un grande momento ma sappiamo che quando c'è Inter-Empoli o Empoli-Inter insomma le partite sono sempre molto particolari, a San Siro l'Empoli ci ha battuto una volta con un gol di Rocchi, ci ha battuto l'anno scorso 1-0 con un gol di Baldanzi che per fortuna adesso gioca alla Roma, l'ultimo gol ha segnato contro la Juventus con la maglia dell'Empoli e quindi insomma è una partita da prendere con le molle, da vincere perché nelle ultime due partite l'Inter ha perso e pareggiato, perso con l'Atletico, uscito dalla Champions e pareggiato con Napoli, ha mostrato qualche segno di stanchezza che era fisiologica, adesso bisogna però riprendere a vincere, a giocare bene come ha fatto l'Inter fino a due settimane fa, vincere, giocare bene, portare i punti a casa per avvicinarsi sempre sempre di più magari a questo ventesimo scudetto, la seconda stella e poi magari giocare le ultime partite un po' come passerella, un po' come anche per dare spazio a chi ha giocato di meno perché quando si raggiunge un obiettivo e anche, e viene quell'obiettivo raggiunto quindi matematicamente, è anche giusto, e questo è un messaggio subliminale che mando a chi sa ascoltare e anche giusto far giocare chi ha giocato molto poco durante l'anno va bene, va bene ragazzi, io intanto vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento al video di questa sera, poi vedremo le novità che arriveranno nel giorno, le commenteremo, vi ricordo di schiacciare la campanella per avere la notifica dei video, il pollice su se vi è piaciuto questo video, mi raccomando commentate qui sotto perché io leggo tutti i vostri commenti e poi iscrivetevi al canale, basta schiacciare, iscriviti, siete iscritti, non costa niente e mi fate comunque un bel regalo, vedo che gli iscritti stanno piano piano aumentando siamo più di 41.000 quindi stiamo andando bene, quindi io vi ringrazio ogni volta ciao ragazzi, sempre Forza Inter, ci vediamo più tardi ciao